Buongiorno amici e buon Natale a tutti. 25 dicembre 2023, Fortnite capitolo 5 stagione 1, è arrivato questa notte con Babbo Natale il bundle di Freezer e Cell. Nuovi personaggi in collaborazione con Dragon Ball Z che arrivano nello shop giornaliero e quindi andremo a vedere i bundle nel dettaglio e contest dedicato a Freezer e Cell. Se raggiungiamo i 100 like a questo video, quindi schiacciate il pollicione in su e raggiungiamo i 2000 iscritti, sceglierò chi avrà commentato o Freezer o Cell nei commenti qui sotto e gli regalerò una di queste due skin. 2300 V-Buck per il bundle con i due personaggi di Dragon Ball Z e i due backpack relativi che sono davvero carini. 1500 V-Buck per le skin singole, quindi mi raccomando se volete partecipare iscrivetevi al canale attivando la campanellina e spolliciate a questo video, condivendo anche il video con i vostri amici. bundle da 1600 V-Buck invece per i due picconi e il deltaplano dedicati appunto a questi personaggi, quindi se volete completare tutto il pack dovete spendere un bel po' di V-Buck. e come fare per recuperare questi V-Buck? semplice, è uscito questa notte un bundle da 9€ con 1000 V-Buck e skin in regalo. eccolo qui è il pacchetto in carichi esilio delle terre del vuoto. 8,99€, 1000 V-Buck, backpack, piccone e skin. Un pacchetto davvero conveniente. Skin molto molto carina, con questo effetto fulmini sugli occhi. Bella anche la sua versione Lego e il backpack, nucleo di frantumazione. Ira del vuoto è il piccone e poi abbiamo i 1000 V-Buck che si riscatteranno completando gli incarichi di questo pacchetto. Se raggiungiamo i 5000 iscritti al canale sceglierò uno di voi e gli regalerò questo pack da 9€. Quindi mi raccomando condividete il video con i vostri amici e fatevi iscrivervi. Se volete supportarmi, codice creatore, il Gianni Yt, mi raccomando da rinnovare ogni 14 giorni. Se lo farete, taggatemi su Instagram, trovate il link nella home della pagina YouTube. Sarete ripostati e menzionati in un prossimo video, come è già successo, con un regalo speciale. Quindi, prima di concludere questo video natalizio, vi ricordo il contest dedicato invece ai 10.000 iscritti perché se raggiungiamo i 10.000 iscritti al canale farò una live su Twitch e metterò in paglio 3 schede da 1000 V-Buck. Con il codice da riscattare faremo un contest in live dedicato a 3 schede, quindi 3 fortunati riceveranno 1000 V-Buck in regalo sottoscritto. Quindi mi raccomando fate iscrivere tutti, condividete il video su tutti i vostri social. Io vi ringrazio per aver visto il video, noi ci vediamo nel pomeriggio con una mappa creativa. Vi auguro un buon Natale e un buon game a tutti. Ho ho ho, ciao!